Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Buonasera, buonasera, ben ritrovati al nostro punto di luce. Buonasera Don Roberto. Ciao Adriana, bentrovati a tutti. Allora, oggi parliamo della preghiera attraverso la televisione, no? Perché la tecnologia ci permette anche questo. Sì, è un tema un po' particolare, diciamo il titolo è un po' esagerato perché non è che preghiamo con la televisione, ma utilizziamo anche quello che la televisione propone per facilitare, appoggiare, avere un momento di preghiera e questo è un po' una novità perché se è vero che la messa è teletrasmessa oramai da 70 anni e più, ovviamente soprattutto la messa domenicale, che ci sono poi altre trasmissioni soprattutto di televisioni regionali, locali che ritrasmettono messe, che ci aiutano anche a pregare il rosario, magari si collegano con santuari vari e permettono quasi di essere in presenza. Sì, ti fanno sentire lì, certo. La preghiera però ha un suo risvolto particolare, spirituale, personale e comunitario che ovviamente la televisione non può sostituire. E' vero, e lo diciamo da subito, che il servizio che vogliamo fare anche con le trasmissioni religiose, con i contenuti religiosi e con la trasmissione della messa quotidiana è fatto soprattutto per chi magari non può muoversi da casa e quindi usufruisce di questo mezzo e può veramente pregare con la televisione. La prima messa trasmessa in tv, imparo anch'io, è stata trasmessa proprio da Milano il 19 dicembre del 1954 anche se prima l'aveva già fatto Parigi e anche New York. Sì, diciamo che sono in quegli anni, negli anni 50, in cui la televisione si sviluppa e si diffonde e evolve tecnicamente la possibilità di avere delle trasmissioni anche fuori dagli studi di produzione e più o meno in contemporanea c'è una messa trasmessa da Notre Dame, una messa trasmessa da St. Patrick a New York e poi quasi subito, quindi l'Italia non è stata molto in ritardo, ma anche da Milano c'era il centro di produzione RAI ovviamente che ha iniziato a trasmettere la messa, prima è stata una sperimentazione e poi sappiamo che è diventata l'appuntamento domenicale della messa trasmessa in tv e che ha sempre un largo seguito. C'è da dire che sicuramente un evento che ha dato più seguito alla messa in televisione è stata la pandemia perché ci ha reso impossibile uscire, muoverci e quindi andare fisicamente in chiesa. Diciamo che lì è stato quasi un obbligo perché non si poteva riunirsi in un luogo non si poteva stare insieme per le regole che sappiamo erano state date a tutti e quindi l'unica possibilità di partecipazione era quella televisiva cioè ci si collegava, si vedeva la messa teletrasmessa e si partecipava in qualche modo all'eucarestia. Ovviamente non soltanto la messa televisiva ma la novità della pandemia è stata il fatto che non soltanto le grandi televisioni, grandi piccole e medie televisioni che poi hanno continuato comunque già prima trasmettevano le celebrazioni eucaristiche e altri momenti liturgici o di preghiera ma anche le stesse parrocchie tramite i social, tramite i canali video, youtube e lo streaming hanno potuto trasmettere le messe proprio parrocchiali, le messe legate proprio a un territorio e quindi è stato un cambio di espressione nella messa televisiva legata anche a un piccolo territorio che permetteva la possibilità di essere in contatto in un modo nuovo. Questo con la radio è stato fatto in precedenza, esisteva la possibilità ed esiste ancora di radio comunitarie che trasmettono quotidianamente la messa. Ovviamente anche l'immagine e il video cambia un po' la situazione. Questo sì, ma io ti volevo chiedere questo però perché durante la pandemia c'era proprio l'impossibilità di andare in chiesa e quindi diciamo che chi voleva assistere alla funzione religiosa doveva per forza fare così. Ma adesso se io ho la possibilità di andare fisicamente invece me la guardo dal salotto di casa mia, vale lo stesso? Diciamo che vale è una domanda un po' come dire non completa. Il fatto della validità è legato alla partecipazione, cioè se io posso muovermi, quindi lasciare la mia casa e andare nella mia chiesa parrocchiale, soprattutto comunque in una chiesa dove si celebra l'eucaristia la partecipazione è proprio funzionale al mio partecipare, al mio essere all'interno della celebrazione eucaristica che non è soltanto una presenza così di persone che tra di loro si pongono nei luoghi, nelle sedi e nei banchi ma è proprio i fedeli radunati attorno all'altare che celebrano l'eucaristia con un presidente, con il sacerdote o il vescovo che presiede la celebrazione eucaristica. Quindi se si può partecipare all'eucaristia e diciamo così un po' sorridento per pigrizia o per malavoglia non si fa lo sforzo di andare verso la propria chiesa o comunque una chiesa che si sceglie quello vuol dire che si è un po' diventati tiepidi o freddi nella fede se invece si è nell'impossibilità di muoversi da casa per l'età, per la salute, per condizioni proprio oggettive che non permettono lo spostamento dalla propria stanza, dalla propria casa allora la partecipazione non è la stessa di quella in presenza ma ha un significato spirituale più elevato perché poi c'è da dire tra niente e la partecipazione è sempre meglio quello se uno si mette di impegno e cerca di seguire la celebrazione eucaristica o comunque quel rito, quel momento di preghiera e vi partecipa con tutto se stesso mette a disposizione tutte le sue forze in quel momento per capire bene quello che avviene ha un significato spirituale di buon livello ecco invece la preghiera, questo per quanto riguarda la funzione religiosa ma funzionano molto anche le immagini trasmesse in diretta dai santuari io sto pensando all'immagine della grotta di Lourdes anche quello è un modo per pregare grazie alla televisione diciamo che c'è una differenza tra la celebrazione eucaristica in cui chi non può muoversi e andare a messa quindi partecipa in un modo così spirituale e invece tutti gli altri modi di preghiera che possono essere facilitati dalla televisione che propone un luogo sacro che propone un santuario o anche la recita del rosario ben fatta, ben organizzata o anche un momento di preghiera e questo facilita la preghiera personale in effetti è una preghiera personale che addirittura si può anche allargare in famiglia e se non si è soli magari si può viverla insieme ad altri nello stesso momento e questo è molto seguito e penso che sia un servizio un aiuto che viene dato proprio alla preghiera quotidiana e in questo dobbiamo ringraziare appunto la televisione che ci dà questa possibilità ci dà uno spunto in più e la tecnologia il problema è sempre quello la tecnologia non è né buona né cattiva è l'uso che se ne fa e in questo caso è un uso buono è un uso buono che si può fare della tecnologia tante televisioni in tutta Italia ma anche nel mondo danno, offrono ai loro ascoltatori proprio per iniziare e terminare la giornata per avere dei momenti come fate Lenovo? Noi possiamo dire che siamo noi cerchiamo di fare questo servizio e cerchiamo di portarlo avanti giorno per giorno uno di questi siamo noi però adesso facciamo il solito nostro percorso attraverso le opere d'arte e non con la televisione ma con la preghiera in generale ma diciamo iniziamo con due opere d'arte per capire l'importanza della preghiera lo dico anche da adesso questo tema ho cercato di metterlo in evidenza perché stiamo vivendo l'anno della preghiera è l'anno che Papa Francesco ha voluto proprio in preparazione al giubileo del 2025 e possiamo dire che la preghiera con la televisione è uno dei modi di pregare forse una volta non esisteva adesso c'è anche questo modo di esprimere la preghiera o di aiutare la preghiera quindi possiamo metterlo a tema e rifletterci un po' sopra beh tra qualche anno ci saranno anche dei quadri probabilmente con la preghiera in televisione perché no? forse sì l'arte moderna probabilmente riprenderà anche questo però è bello vedere questi quadri che sono molto evocativi e mettono in evidenza l'intensità della preghiera il primo ad esempio è di un autore reatino perché si chiama Antonino Calcagnadoro sì di Rieti appunto di Rieti è vissuto tra il 1876 e il 1935 nel 1899 ha dipinto questo quadro Anziani in preghiera lui ha fatto molta scuola di decorazione quindi è un pittore che ama i dettagli che ama un'espressività e la vediamo molto intensa nei volti di queste tre persone due più anziane sì che hanno lo sguardo di volti in tre punti diversi esprimono veramente l'intensità della preghiera e della concentrazione che c'è durante la preghiera e poi c'è la preghiera della madre che è una scultura di Timo Bortolotti eh sì qui l'autore è un bresciano di Darfo che ha studiato all'Accademia di Brera e rappresenta proprio sua madre l'immagine o meglio la scultura di sua madre intensamente concentrata nella preghiera ecco forse questo lo possiamo dire la preghiera fatta in un luogo scelto proprio per la preghiera permette una concentrazione particolare la televisione a volte rischia di distrarre però se si contestualizza la televisione in un momento particolare della giornata di concentrazione anche non ci si fa troppo distrarre la televisione può diventare anche quella un mezzo per concentrarsi nella preghiera come vediamo nelle immagini successive eh sì perché noi abbiamo questa immagine quella del Papa della preghiera di Piazza San Pietro durante la pandemia è una delle immagini ecco questa è una famiglia che guarda il Papa eh sì lì c'è stato veramente quella quella immagine lì credo che abbia colpito tutti noi una percentuale di 64% di share 64% di share perché proprio c'era bisogno di esprimere la preghiera e penso che tutti in casa abbiano mantenuto anche quel silenzio quella concentrazione che richiedeva il momento beh è stato un momento epocale è stato un momento epocale che però ecco ha insegnato qualcosa che poi può rimanere come esperienza di preghiera con la televisione ecco qui magari una famiglia più giovane c'è l'amico Cagnolino c'è anche il Cagnolino che partecipa a questo momento forse un po' più rilassati perché a volte ecco davanti alla televisione c'è questo atteggiamento un po' di rilassatezza che non aiuta molto magari la concentrazione però possiamo anche scegliere scegliere come stare davanti alla televisione per vivere un momento di preghiera un momento come quello della preghiera adesso approfondiamo il tema come al solito e prima vediamo un contributo di Fabio Bolzetta che è un giornalista ma anche presidente del Web dei Cattolici di UECA e lui è molto esperto dei mezzi televisivi e digitali e ha fatto una riflessione aiutato anche dall'ufficio liturgico della CEI sulla liturgia dopo il Covid perché c'è stato un momento difficile di ripresa ci si trovava bene a seguire le messe in tv o in streaming quindi non si capiva più a un certo punto quando abbiamo potuto ricominciare ad andare in presenza tu dici lì c'è stato uno stacco qual è la difficoltà che si è vissuto lui sottolinea alcuni passaggi che possono aiutarci a capire la liturgia un saluto dall'Associazione Web Cattolici Italiani oggi vi proponiamo una riflessione sulla liturgia post pandemia ovvero vivere la familiarità durante il tempo della pandemia l'impossibilità di potersi riunire per celebrare l'Eucaristia ha prodotto un moltiplicarsi di celebrazioni cosiddette virtuali messe in streaming, in televisione o radio momenti di preghiera online eccetera ecco tutto questo nella speranza di mantenere vivo un legame con la comunità parrocchiale accompagnare il tempo della sofferenza alimentare la preghiera tuttavia ora finito il tempo dell'emergenza sanitaria ci domandiamo è bene continuare a promuovere queste forme alternative oppure c'è qualcosa di irrinunciabile nella forma partecipativa in presenza e perché terminato il tempo dell'emergenza sanitaria molti cristiani faticano a tornare ad una forma partecipativa comunitaria la risposta è complessa e necessita di una seria riflessione a cui il cammino sinodale da poco avviato nelle chiese in Italia sarà di aiuto ma un dato appare chiaro non ci siamo mai presi davvero cura del corpo ecclesiale di quell'assemblea cioè che domenica dopo domenica si incontra per celebrare comunitariamente il giorno del Signore la liturgia infatti è per sua natura contagiosa cioè intrinsecamente relazionale vive e si alimenta di un coinvolgimento dei corpi, sensi, gesti, oggetti, spazi e tempi un luogo in cui ritrovarsi sguardi che si incrociano voci che si uniscono nel canto e nella preghiera pasto che si consuma insieme poiché un'assemblea liturgica è qualcosa di più della mera somma dei singoli è un grande noi accumunato da una stessa fede che pur nella piccolezza e povertà è segno misterioso in cui si rivela la presenza del Signore Gesù e infatti nell'assemblea liturgica popolo santo ma composto di peccatori che ogni cristiano incontra il Signore nella concretezza dei volti delle persone che la costituiscono nella loro varietà e diversità di classe sociale, sesso, età, professione per questo il primo gesto della Chiesa è il raduno in uno stesso luogo nel medesimo tempo per accogliere il dono di una presenza viva efficace che si manifesta e realizza attraverso le parole e i gesti del rito molto bravo è molto bravo perché sa comunicare lo dice tutto molto chiaramente lo dice spesso i telegiornali su TV2000 è un giornalista che riesce a comunicare bene anche con la funzione di presidente di UECA quindi lo ringraziamo per quello che fa la sottolineatura e forse l'apertura che si può dare è è vero che serve una partecipazione in presenza a volte questa partecipazione in presenza grazie anche al presidente che riesce cioè al sacerdote, al vescovo che presiede si può allargare anche a chi sta guardando la televisione e mi spiego ripeto l'importanza di partecipare in presenza e quindi chi può deve fare il movimento lo sforzo di andare fisicamente verso la chiesa chi non può deve sentirsi coinvolto in qualche modo e talvolta anche le parole del sacerdote che dicono sono con noi anche coloro che ci stanno seguendo tramite i mezzi televisivi e quindi fa capire che questa presenza si allarga anche per coloro che non possono essere in presenza fisicamente ma lo sono spiritualmente e questo giova ad allargare questa assemblea che ovviamente l'età media della popolazione italiana sale sempre di più c'è chi magari fa fatica a muoversi dobbiamo tenere presente anche queste esigenze e cercare di rispondere nel modo adeguato esatto adesso sentiamo invece un esperto tedesco anche che ci dà il suo punto di vista lui è un pastore luterano molto esperto di internet dell'utilizzo di internet anche per la liturgia seguiamo qualche passaggio perché dice quello che è successo cioè che c'è ancora voglia di partecipazione online anche dopo l'esperienza della pandemia vediamo probabilmente alcune persone non possono andare a un servizio di culto in una chiesa in coppia come famiglia quindi se interrompiamo i servizi digitali perdiamo alcune persone alcune persone che hanno davvero iniziato ad apprezzare i servizi online durante la pandemia inoltre alcuni dei dati che abbiamo raccolto nei nostri studi sono che il modo in cui le persone sperimentano i servizi online è abbastanza simile a come le persone percepiscono i servizi in una chiesa ad esempio i valori di cordialità invito accoglienza sono abbastanza gli stessi per i servizi online e i servizi in loco nelle parrocchie quindi per le persone l'esperienza è più o meno la stessa ciò significa che è bene continuare a farlo e offrire questa opzione ma la cosa più importante è che se guardiamo i dati le persone vogliono che i servizi online provengano dalla loro parrocchia la maggior parte delle persone non è interessata a pregare online nella parrocchia vicina o in qualche chiesa della stessa città ma deve essere la loro parrocchia quindi se vogliamo continuare i servizi online dobbiamo renderci conto che potrebbe provenire dalla propria parrocchia e come ho detto all'inizio se vogliamo essere inclusivi e se vogliamo offrire il culto a tutti dobbiamo anche offrire servizi online perché alcune persone non possono andare in chiesa di persona e hanno potuto pregare online durante la pandemia e credo che sia importante che possano continuare a pregare online anche dopo la fine della pandemia e quindi è meglio si perdono lui dice se non si fanno più servizi non le queste persone le perdiamo è un servizio che si è imparato e deve andare avanti e la sottolineatura è il fatto che ognuno vuole percepire tra virgolette la sua chiesa ecco l'interessante quindi è bene che ci sia la messa dal Duomo di Milano come c'era la messa da quell'altro santuario ovviamente per la Lombardia un punto di riferimento è il Duomo di Milano e su Telenova ogni giorno c'è la messa dal Duomo di Milano e questo dà un senso di appartenenza particolare che va portato avanti eh sì un'altra chiesa sarebbe un'altra cosa quindi va bene l'online però il luogo deve essere quello che piace a noi questo è il concetto quello che significa appartenenza quello che significa per noi va bene adesso vediamo invece i consigli di Fra Stefano eh sì anche lui Fra Stefano è un youtuber che utilizza proprio in mezzo lo streaming per aiutare la preghiera allora sentiamo alcuni consigli vediamo non riesco a pregare cosa devo fare come abbiamo visto ci sono diversi modi per pregare io direi innanzitutto cerca il modo a te più adatto alcune persone trovano aiuto leggendo preghiere scritte per esempio anche nella Bibbia troviamo il libro dei salmi che è una raccolta di 150 preghiere ma poi naturalmente ce ne sono molte altre di preghiere a nostra disposizione per qualcuno risulta più facile pregare il rosario per altri è preferibile fermarsi in silenzio magari durante l'adorazione eucaristica insomma è inutile che mi ripeta ma quello che a mio parere è il minimo 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 è almeno la preghiera del Padre nostro recitata quotidianamente perché ce l'ha insegnata Gesù molto importante è anche la preghiera comunitaria con l'ascolto della parola di Dio e la partecipazione all'eucaristia insomma pregare non è solo il seguire la voglia ma per un cristiano è anche una scelta un impegno proprio come un esercizio fisico che pur fatto con amore pur sapendo che ci porta dei risultati positivi tuttavia richiede anche la volontà e costanza e se proprio non ti riesce di pregare e non sai che dire semplicemente fermati e taci nella preghiera è meglio avere un cuore senza parole che avere parole senza cuore meglio silenzio carico di significato che le parole a vuoto bisogna dosare bene le parole nella preghiera e usarle con amore cioè la preghiera deve partire dal cuore e poi utilizziamo anche quella che passa tramite la televisione ci verrà utile se ci mettiamo un po' di cuore esatto ci fermiamo adesso qualche istante linea alla regia e poi consigli di lettura a tra poco rieccoci allora qualche consiglio di lettura è un libro di Don Marco D'Agostino un prete della diocese di Cremona che scrive ha prodotto tanti bei libri questo è particolare perché dice il titolo è Dio abita in cantina particolare il titolo lettere di un prete che lo cerca e quindi come dire bisogna capire di che cosa si tratta io direi passare a lui perché il titolo è molto evocativo in cantina vuol dire che non è sott'occhio e credo che tutti abbiamo fatto nella nostra vita l'esperienza bella a volte anche molto faticosa di essere accompagnati da qualcuno e anche noi preti che spesso accompagniamo gli altri o gli altri pensano che noi possiamo accompagnarli abbiamo un gran bisogno di essere accompagnati e di rientrare in noi stessi e di scendere con calma non con troppa calma le scale della nostra vita fino in cantina dove magari durante la nostra vita la nostra giovinezza il nostro ministero che è un po' la vita di tutti abbiamo nascosto dei ritratti che non sono venuti poi così bene li abbiamo nascosti abbiamo chiuso ben bene quella cantina e poi siamo risaliti dimenticandocene o pensando che questi ritratti non esistano io credo che come dice il Salmo la parola di Dio è sempre luce ai nostri passi e anche l'aiuto degli altri o di qualcuno che ci accompagna o della vita o degli incontri con le persone possono prenderci per mano per ritornare in quella cantina aprire porte finestre far passare la luce e riguardare quei quadri allora oggi tante volte sentiamo che le persone non stanno bene non vivono bene siamo tutti di corsa e allora ripensando alla mia esperienza personale ho pensato come sia importante a un certo punto della vita che qualcuno ti prenda per mano ti porti nella cantina della tua vita e tu possa fare una grande scoperta cioè come il Papa tantissime volte ripete che anche quei brutti ritratti che a te non piacciono e che tu non vuoi vedere e non vorresti che qualcuno te li ricordasse alla fine Dio vuol bene anche a loro l'unico forse che non vuol bene a quei ritratti sono proprio io e allora il libro che è sinceramente molto personale rispetto ad altri testi che io ho scritto e sinceramente mi ha fatto molto bene scriverlo e ripercorrere tutta la mia storia di accompagnamento a questo libro ho dato questo titolo Dio abita in cantina lettere di un prete che lo cerca perché tutti siamo alla ricerca di questo Dio che ci vuol bene ma è un lavoro che non possiamo far da soli dobbiamo avere il coraggio di farci accompagnare dalla vita da qualcuno da qualcuno più grande di noi e alla fine scopriremo che quella cantina bella areata non è poi così buia bella areata perché perché in realtà non è una cantina perché se c'è Dio dentro alla fine c'è bisogno di arearla di farci entrare luce di farci aiutare di capire che cosa abbiamo messo da parte che invece è ancora utile per la nostra vita e questo libro è una metafora molto bella c'è un po' di fiction e un po' di meditazione spirituale aiuta a capire più noi stessi Dio abita in cantina molto la metafora è davvero molto bella va bene la frase per chiudere il punto di luce ritorniamo alla preghiera e ci facciamo ispirare da un grande una grande anima che è il Mahatma Gandhi sì la preghiera è la chiave del mattino cioè quello che apre la giornata è il catenaccio della sera quando chiudiamo la porta quindi è importante pregare al mattino è importante pregare la sera è importante che la preghiera cammini con noi lungo tutta la giornata perché ci permette di gustare tutte le esperienze della vita se preghiamo vuol dire che siamo sempre capaci di tenerci in mano e di farci guidare da Dio quindi iniziare e chiudere la giornata con la preghiera grazie a Don Roberto grazie alla regia e anche a chi ci ha seguito come al solito arrivederci grazie questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana il settimanale della famiglia grazie a tutti